Nell'ambito della giornata internazionale contro le opere inutili ci sono tante manifestazioni oggi nel paese, una anche a Pescara, questo sit-in piazzale Musi De Santis, per dire cosa? Sì, un po' di noi sono andati alla manifestazione Notav a Torino, qui manifestiamo per le opere inutili e dannose che vogliono realizzare sul nostro territorio, a partire dal grande gasdotto sul Mona Foligno che è in fase autorizzativa e si può dire ancora di no. Sono opere fossili e noi siamo qui anche perché in questo momento stanno discutendo sul clima e la questione climatica sta diventando una questione drammatica e prioritaria, quindi è veramente incredibile che sul territorio abruzzese, un territorio anche molto bello, vogliono realizzare opere fossili come questo gasdotto, un altro gasdotto, Larino Chieti, opere che rimarranno sul nostro territorio per 50 anni, fino al 2070, quando noi entro pochi anni, pochi decenni, gli scienziati ci dicono che noi le fonti fossili le dobbiamo abbandonare. Il metano è una fonte fossile, non è pulito come si pensava, è un gas clima alterante molto pericoloso e quindi noi pensiamo che tutti i denari che poi vengono dalle tasche dei cittadini o attraverso le bollette o attraverso gli investimenti come la TAV devono essere spesi per il risanamento del territorio, per le scuole, la depurazione, tappare le perdie lungo le reti idriche. Do un dato, i 7 miliardi della TAV spendendoli in scuole potrebbero mettere a norma 3.000 scuole per i nostri ragazzi o 3.000 depuratori. Ecco, che cosa vogliamo? Vogliamo una depurazione, un'unica grande opera che è inutile perché non ha i flussi ma anche quella sul nostro territorio vale lo stesso perché questi gas adotti poi vanno a finire sulle bollette dei cittadini italiani.